carnevalone di borgosesia nelle domeniche 7 14 e 21 di febbraio con inizio alle ore 14 e 30 grandiose sfilate di carri allegorici mascherate e bande musicali dalle 13 al 21 febbraio sempre nell'ambito del carnevalone borgosesiano rimara aperto in viale vittorio veneto la terza mostra mercato delle attività economiche carnevalone di borgosesia grazie